E' una cosa che va molto forte, che tutti vogliono, anche perché è una cosa patriottica. Faccio la pizza con tre colori, no? La pizza italiana, porca puttela! Finalmente sono cominciati gli europei di calcio 2020 e l'Italia, come sempre, si distingue per la sua eleganza e per la sua sobrietà. Quelle originate il mondo? Un presidente delgroundio italiana, cominciati gli europei di Calcio e sono matrici.